Ciao! Diciamo che in questa serata sul sito.monde.ver ci saranno delle presentazioni di nuovi prodotti e delle scontistiche sui nuovi prodotti e anche su quelli già presenti in catalogo. Allora, per quanto riguarda il programma dettagliato consiste nella presentazione dei nuovi Deep Gloss di Lily Lolo, che appunto sono tre, si chiamano Whisper, Clear e Peachy Cane. Io ho avuto appunto la possibilità di provarne uno, che è Whisper, questo è il Lip Gloss. Sono esattamente 6 ml di prodotto ed è questa colorazione che ho anche sulle labbra. Allora, in realtà è un po' meno carica di questa. Allora, questo è il pennellino, la classica spugnettina. E questo è il colore. Un bel rosa antico, che comunque si nota sulle labbra. Io ho le labbra molto pigmentate, quindi faccio già fatica a prescindere con tutti i Lip Gloss, a farle vedere molto. Questo è un Lip Gloss che non appiccica sulle labbra, che ha appunto una bella iridescenza. E mi piace molto il colore. Resiste a lungo, perché comunque l'ho già usato e resiste abbastanza. Io sono una di quelle che tipo 5 minuti che è su il Lip Gloss non c'è già più, eh. Quindi se resiste per il video, siamo già a un buon pass. E poi appunto ha una profumazione al cioccolato, mi sembra. Sì, si sa di cioccolato. E questi Lip Gloss fino al 31 di luglio, a partire appunto da stasera, sono in promozione col 10% di sconto. Quindi da 8€ e passa che vengono, c'è ancora il 10% di sconto da aggiungere. Questo trucco ad esempio è stato fatto con una matita che è sempre nel loro catalogo. Questa è dell'Alva Natural Cosmetic, che è appunto un marchio naturale. E questa qui proprio sta benissimo con il Lip Gloss. Si chiama Soft Rose. E' questo colore qui, infatti è più scuro ed è per quello che appunto risulta così scuro. Perché prima ho messo la matita e poi il Lip Gloss. Questa costa sui 9€ e anche questa, a partire da stasera, c'è lo sconto appunto del 10%. Se acquistate poi uno dei Lip Gloss nuovi, avete l'opportunità, con un ordine minimo di 59€, di avere anche un Lip Gloss della precedente stagione. Quindi con questo in regalo ci sarà anche un Lip Gloss della precedente stagione. Lo sconto del 10% ve lo do io in pratica, noi e come me e tante altre blogger. Nel senso che noi abbiamo avuto appunto l'opportunità di ricevere un codice sconto, che vi lascerò poi qua sotto. Che appunto se voi inserite nel apposito spazio, vi lascia il 10% di sconto su tutto il catalogo. Io ho potuto anche provare, e ho già appunto indossato, due pigmenti che fanno parte delle torri sempre dell'alva. Questa è la collezione Green Equinox e questa in particolare fa parte della torretta che si chiama Kaleidoscope. I due prodotti sono il rosa fucsia, questo colore qua, che è quello che ho utilizzato sfumandolo al blu, che si chiama Pink Attitude. E il blu, che è questo colore qui molto forte, che si chiama Remember Me. Ve li swatcho velocemente. Allora, questi sono i due colori. Questo è il Remember Me e questo è il Pink Attitude. Ovviamente hanno sempre delle iridescenze essendo dei pigmenti. Queste appunto fanno parte delle torrette. Queste torrette sono composte da quattro ombretti, io ne ho solo due, e costano sui 25€. Sono però dei pigmenti, quindi hanno moltissime funzioni. Ad esempio, questi si possono usare con uno smalto trasparente per fare poi uno smalto colorato. Oppure si possono mischiare al lipgloss, che comunque tende a essere abbastanza chiaro per renderlo un po' più scuro, appunto un po' più fucsia. Stessa cosa per creare un eyeliner con un po' di acqua e mischiare il pigmento. Come sapete i pigmenti sono molto versatili, ecco. Quindi io consiglio di fare appunto un giro sul sito, proprio perché appunto poi da stasera soprattutto, perché secondo me ne vale la pena con le promozioni che comunque attueranno. Vi ripeto, se acquistate un lipgloss con un ordine minimo di 59€, ce n'è un altro della vecchia collezione in regalo. Questo qui costa, invece che 8,29€, mi sembra, al 10% di sconto. Stessa cosa per tutti comunque i prodotti presenti sul sito, perché vi lascerò appunto qua sotto il codice sconto. E niente, vi auguro un buono shopping e spero di avervi fatto vedere come risultano poi questi trucchi. E spero di avervi dato un parere il più sincero possibile. Ecco, ciao!